Pronto, sei, sono Giacometti qua, della provincia nord-est, autonoma, sessione 8, numero di identificativo, aspetti che ce l'ho scritto, ho fatto il tatuaggio così, 77526897 ispilo, 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 senta, sì, questa qua è la segreteria del partito unico, giusto? Perché volevo chiedere una roba, quando noi eravamo giovani, negli anni 70, 80, ce le ricorda lei? A lei è nato in provetta, vabbè, comunque negli anni 70 c'era il bar qua e si andava con gli amici, ci si prendeva in giro, uno era da destra, uno era da sinistra, c'avevano tutti la tessera del partito, il fascista c'aveva quella, quell'altro, botte da orbi, serate memorabili, discussioni, spaccavamo i bar, era un divertimento, no? Come adesso, insomma, le generazioni nuove, non le capisco, vabbè, non le interessa, vabbè, volevo dire, se può mica avere la tessera del partito unico qua? Faccio una bella, il mio nipote c'ha la macchinetta per plastificarla, faccio un figurone al bar, così gli altri mi mostrano invece le loro. Eh, ma sono tutti uguali le tessere? In che senso? Ah, perché se è partito unico, faccio un partito solo. Ma non si può fare delle tessere, una verde, una rossa, così, giusto per ricordare i vecchi tempi, poi siamo tutti nella stessa barca. Come fanno in Parlamento, che fanno finta? Uguale. Anche noi ci divertiamo così, siamo esseri umani. Eh, lo so che lei ha fatto il laboratorio, non può capire, però a noi ci piace litigare. Vabbè, il mio indirizzo tanto lo sa, sa tutto. Sì, ieri non sono andato in bagno tante volte, ma oggi va meglio. Grazie, la ringrazio per preoccuparsi, ma... Mia moglie invece... Esatto, le nanie del sangue sono un po' sbalate. È incinta? Ma come? È Maria! È Maria! È Maria!